La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Vediamo subito quali sono le principali notizie trattate del quotidiano edicola questa mattina, lunedì 27 ottobre. E partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale, scontro tra BCE e Italia, la BCE boccia 4 banche italiane, vediamo il titolo. Banche, scontro, BCE, Italia, bocciati 13 istituti europei, 4 sono nostri, Banca Italia critica, il sistema è solido. Gli stress test, Monte dei Paschi di Siena e Carige devono ricapitalizzare promossioni credit e intesa, polemiche per l'ok alle tedesche. Vediamo gli articoli correlati, il commento perché i nostri conti correnti sono al sicuro. Per la sinistra divisa Renzi attacca la minoranza PD, non torno al 25%, ancora il sindacato che fa il gioco dei falchi dell'Unione Europea. Cambiamo argomento, andiamo di spalla. Il caso rispunta all'incubo rifiuti, anche la Puglia blocca i viaggi dalla Campania. Di taglio alto, la vittoria del Napoli ieri in campionato, 6 a 2 contro il Verona al San Paolo. Il titolo sono tornati, il Napoli affonde il Verona 6 a 2, riscatto dei Big, tripletta di Higuain e doppietta di Amsic. Per gli articoli correlati, il punto dietro ai titolarissimi restano i problemi, ora basta turnover. E ancora a controcampo il Capitano Mare che l'esorcista Pipita scacciano i fantasmi. Quindi lasciamo lo sport, andiamo di taglio basso. I focus del mattino, ferrovie, tutti i progetti dimenticati al sud, su 43 miliardi di lavori finanziati, soltanto 5. Per il dibattito non pieghiamo Leopardi alla città di oggi, Napoli e le interpretazioni fuori luogo sul film di Martone. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Ora andiamo nelle pagine interne, vediamo gli argomenti di primo piano. Andiamo proprio sull'argomento di apertura. Parliamo della BCE e delle banche italiane. Il credito banche, quattro bocciate in Italia, Carige e Monte Paschi di Siena, allarme rosso. 25 istituti europei sono risultati negativi agli antistress. E poi vediamo su questa pagina la tabella con il risultato dell'esame della BCE. Vediamo Carige a meno 1,835, 1 milione 835. Ancora Monte dei Paschi di Siena a meno 4.250. Quindi, come vediamo, numeri da capogiro. Andiamo a vedere una parte dell'articolo. Le banche europee possono reggere anche uno scenario da fine del mondo. Quasi tutte le 131 banche esaminate, tranne 13, secondo la BCE. E tra questi 13 istituti ce ne sono ben 4 italiani. E questo è l'ultimo scatto fatto dalla BCE al termine dei tanto temuti stress test applicati alle banche. Sono 9 in Italia gli sportelli carenti, ma 5 in salvo per le misure adottate. Andiamo di taglio basso. Verdetto borse, tremano i banchieri di Siena e Genova. Profumo contesta le modalità scelte per valutare i conti e pressing su Renzi e Visco. Il vertice, la di Viola, convoca i consiglieri nella domenica più nera per l'antico istituto toscano. Lasciamo anche questa pagina di primo piano. Andiamo nelle pagine successive. L'abbiamo visto di taglio basso. Si parla dei fondi per le ferrovie del sud. Abbiamo visto che soltanto 5 miliardi sono stati finanziati dal governo. Andiamo quindi proprio nel dettaglio di questi focus realizzati dal quotidiano il mattino. Per le infrastrutture, ferrovie al sud 38 miliardi da finanziare. La metà per la linea tirrenica alla Napoli-Bari aspetta 3 miliardi. Vediamo i numeri 4 milioni 859 e di quasi 5 miliardi di euro lo stanziamento per investimenti nelle ferrovie previsto complessivamente dallo sblocco Italia e dalla legge di stabilità. 4 milioni 799 al nord, la gran parte degli stanziamenti sono destinati a opere nel nord con 3,1 miliardi per la TAV Brescia-Padova e 870 milioni per il Brennero e 60, appena 60 milioni, è territorialmente destinato al mezzogiorno per interventi su passaggi a livello in Molise e in Puglia. Vediamo per quanto riguarda Salerno, appena 10 milioni su 1 miliardo 855 per arrivare a Battipaglia. Mentre per Bari, per interrare i binari, ci sono 7 milioni su 633. L'asse di taglio sulla parte finale si parla del Salerno-Reggio Calabria, l'asse ferroviario cosiddetto tirrenico è uno dei nodi da sciogliere nel piano infrastrutture nazionali secondo il monitoraggio di Silos. Lasciamo questa pagina, andiamo nella pagina successiva e vediamo quali sono proprio gli interventi, le ferrovie su cui intervenire, perché vediamo c'è la tabella ferrovie, gli investimenti al sud in attesa di finanziamenti. Per quanto riguarda la provincia salernitana vediamo la Battipaglia-Reggio Calabria e il quadruplicamento della Salerno-Battipaglia. Lasciamo anche queste pagine del mattino, ora ci spostiamo sul mattino di Salerno, partiamo dalla prima pagina del mattino di Salerno, chiudono i negozi nel centro storico e a Pastena quindi economia e crisi, continua l'emorragia di negozi, vediamo infatti il focus del mattino per quanto riguarda questo argomento, chiudono i negozi, la crisi in vetrina, costi alle stelle, giù le saracinesche di altri 10 esercizi e crack nel centro storico e a Pastena, questo l'allarme, crollo dello shopping in città, contratti di affitto a termine per sopravvivere nel periodo natalizio. Questo argomento lo tratteremo anche nelle pagine successive, ora restiamo sempre di taglio alto, vediamo il fenomeno, Banconote, una valanga di 50 euro falsi. Andiamo ora a centro pagina, la movida dell'alcol, allarme minorenni, fuori pericolo alla ragazza di 14 anni ricoverata in gravi condizioni a Ruggi d'Aragona, dati shock sul consumo, il primo bicchiere a 11 anni, scattano ora i controlli nei locali. Il ministero stop tagli all'ospedale di Sapri, troveremo questo argomento nelle pagine successive, vedremo che il viceministro De Filippo è intervenuto a tutela dell'ospedale di Sapri, ora andiamo avanti per lo sport, la salernitana, addio primato, il benevento allunga sette giorni per tornare tra le grandi. Per le notizie riportate di fondo, la politica primaria e PD oggi a Napoli prova di forza e cava Servalli il candidato dei Democrat. Per le notizie di spalla, le riflessioni, le pensioni e il welfare di Weimar, mentre di taglio basso il caso Università, la laurea fantasma di Abu Mazen. Andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie di primo piano, l'allarme è lanciato dal mattino, continuano a chiudere i negozi nel centro storico di Salerno, vediamo il titolo, crack commercio, chiusi tre negozi al mese, calo dei consumi e costi alle stelle, default nel centro storico, allarme rosso anche a Pastena. Dieci è il numero delle chiusure di attività commerciali nel centro storico cittadino, ma le dolenti note travolgono nelle ultime ore anche la zona orientale, non risparmiando boutique di abbigliamento rinomate e Pastena a dover infatti pagare dazio con l'annuncio della chiusura del punto ventita Corner Fashion Art di via Lungomare Colombo, gestito da sette anni da Antonio Quaranta, volto noto del commercio di abbigliamento cittadino nonché responsabile zonale per lungo periodo della Confesercenti. L'avviso di cessazione e attività per i negozi di abbigliamento uomo-donna è arrivato su Facebook da parte del gestore del profilo. Andiamo a vedere l'intervista realizzata proprio all'esercente di questo negozio rinomato di Salerno, scelta dolorosa ma inevitabile, le banche non ci aiutano, 40 liquida Corner sul lungomare Colombo, impossibile investire a Salerno. L'affondo, zona orientale penalizzata anche da luci d'artiste, è stata inutile la mia battaglia contro le navette. E andiamo di taglio basso il caso, banconote da 50 euro false, allarme tra i negozianti, alcuni cittadini le hanno avute attraverso un prelievo banco, ma solo in pochi hanno denunciato. I consigli, quattro regole per evitare la truffa, toccare, guardare, muovere e controllare. Lasciamo anche questa pagina, andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie provenienti dalla provincia, dove troviamo il caso della ragazza ricoverata a Ruggi d'Aragona per coma etilico, vediamo, coma etilico salva la quattordicenne dimessa da Ruggi dopo la disintossicazione e si indaga su chi le ha venduto l'alcol e scatta l'allarme alcol. Il primo bicchiere arriva già a 11 anni, birre sotto costo ai minori. L'appello, Roscia di Forza Italia, organizzare task force per stanare chi vende da bere ai minori. Di taglio di spalla, scusate, troviamo la notizia dell'intervento del viceministro De Filippo a sostegno dell'ospedale di Sapri. Vediamo, De Filippo, stop taglia all'ospedale di Sapri. Per l'ospedale di Sapri non è previsto alcun ridimensionamento. A metterlo nero su bianco è stato il sottosegretario alla salute, Vito De Filippo, rispondendo ad un'interrogazione del deputato salernitano Simone Valiante, che chiedeva chiarezza sul futuro del presidio dell'Immacolata. Sembrerebbe che la volontà dell'amministrazione sanitaria sia di ridurre prestazioni e servizi offerti dall'ospedale di Sapri con operatività immediata e senza nemmeno aspettare l'approvazione da parte della Regione Campania. Questo è l'intervento di Valiante. A rispondere per iscritto è stato il sottosegretario De Filippo, secondo i provvedimenti in vigore. Il presidio Sapri è configurato come presidio di secondo livello della rete delle emergenze e costituisce SPOC per l'emergenza cardiologica e per l'ictus cerebrale. È previsto che abbia 100 posti letto per l'adegenza ordinaria e 20 per i dei hospital. Andiamo avanti l'impegno. Il sottosegretario della sanità risponde a Valiante e potenzieremo servizi e mezzi a cardiologia. E su queste pagine del quotidiano il mattino ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con la seconda parte della nostra segna stampa. Bentornati con la seconda parte della nostra segna stampa. Andiamo a vedere quali sono i principali argomenti per la Basilicata dalla prima pagina di La Nuova del Sud che apre con il titolo Big Bang, esplode il PD, quindi in apertura si occupa di politica, da Firenze Renzi evoca la scissione e in Basilicata la spaccatura va subito in scena ad Avigliano. Il premier dà lo sfratto ai reduci, la corazza non ci sta e gli ricorda il 40% del 2008 e anche De Filippo diventa Renziano. Tra intrusi e prime volte alla Leopolda impazzano i selfie dei Lucani con premier, ministri e attori e l'ex Renziano Casaletto preferisce la piazza romana della CGL. Andiamo avanti. Nomine sul difensore civico e garante per l'infanzia. Scricchiola l'accordo maggioranza-opposizione. Oggi il voto. Quattro nomi per due posti. Il dissesto per Potenza è il giorno della verità. La relazione dei revisori dei conti dirà se ci sono alternative. De Luca, i cittadini sanno. Andiamo di taglio alto. La Nuova del Sud si occupa di sport. Vediamo Potenza in delirio. I rosso-blu in serie D di Giacomarro. Inannellano la sesta vittoria di file e rafforzano il primato, scusate, abbattendo il Monopoli al 97esimo sul rigore. Un Francavilla combattivo cade a Cava dei Tirreni punito da due incertezze. E siamo sul calcio per l'eccellenza. Doppia coppia. Il Picerno asfalta il Lago Negro, ma l'Angelo Cristofaro non molla, passando a Villa d'Agri. Continua a risalire la classifica la Vultur e il Moliterno espugna il campo di Pisticci. Per il basket la Bauer si ritrova, mentre per il volley vediamo in serie A2 maschile, la Doma Armatera si fa sorprendere da Potenza Picena. In B1 maschile sconfitta a Cosenza e ultimo posto per la SIEP Potenza, mentre in serie B2 femminile il GSI Potenza vittoria attesa un anno. Andiamo di taglio basso, lasciamo lo sport. Ancora incidenti stradali, strade assassine, un altro triste primato per la Basilicata, un incidente su dieci e mortale. Morta al San Carlo, quei 35 minuti da spiegare. Parliamo della donna morta in ospedale in seguito a un'operazione e l'inchiesta aperta contro alcuni medici. Andiamo avanti. Rosa di Fratelli d'Italia smonta il memorandum. Non ci sono i 250 milioni all'anno oggi ambientalisti a conclave. Questa è la prima pagina di La Nuova del Sud. Ora andiamo avanti, andiamo su Metropolis, quindi torniamo in Campania, torniamo con le notizie di Salerno. Il titolo di apertura, vendono alcol anche ai bambini. Ragazzina di 14 anni finisce in ospedale ubriaca sotto accusa alla movida di Salerno. I carabinieri indagano sui commercianti del centro, ascoltati gli amici della giovane. Andiamo avanti. Salerno, mercatali non in regola, la task force del comune e nella Valle dell'Irno il dramma di un 23enne di Fisciano giù dal balcone. Per la politica regionale, anzi a De Luca, Mauri lo spinge. A Napoli giornata decisiva per la candidatura di De Luca, il sindaco di Angri, Mauri, è con lui. Parliamo, come abbiamo visto, delle elezioni regionali. Intanto a Cava, Servalli vince le primarie del PD amministrative, il centrosinistra ha scelto il suo candidato sindaco, Servalli si aggiudica le primarie. Cambiamo argomento, scafate, abusivismo edilizio e boom di controlli. Di spalla lo sport di Metropolis, Salernitana, vetta persa, ma il tifo è già da record, numeri signori. C'è una classifica in cui la Salernitana comanda ancora, anche se da ieri in vetta da solo c'è il Benevento. È la graduatoria delle presenze allo stadio e alla Rechi, ben 44 mila tifosi in cinque gare. Andiamo avanti per la Serie D, la Cavese non finisce mai, Sarnese pari pirotecnico e sempre in Serie D, la Scafatese cala il poker, show di evacuo nel derby. Mentre Battipagliese e Agropoli rigenerate dai ribaltoni. Lasciamo il calcio, andiamo in basket a due, riscatto Givova Scafati, superata Reggio Calabria. Di taglio basso, lasciamo lo sport, Angri, ceste giallo senza fine, trovate altri resti di Elena. Appagani, semino il panico in strada, io sono un supereroe, coraggioso come Superman, forte come Rambo, indistruttibile come l'incredibile Hulk. convinto di essere dotato di superpoteri, è sceso in strada seminudo e ha seminato il panico. È accaduto venerdì sera in Viale Trieste a Pagani, un 35enne che abita nel popoloso quartiere, nonostante il freddo, vagava a torso nudo e indossava solo pochi indumenti. Si sarebbe anche lanciato al centro della carreggiata. Andiamo avanti, sempre su questa prima pagina di Metropolis, Piana del Sele, rischia di non rivedere il figlio, fa istanza al Ministero. Questa è la prima pagina di Metropolis, andiamo nelle pagine successive, vediamo la politica, l'abbiamo visto anche su altri quotidiani, si parla delle primarie per il PD, per la scelta del candidato governatore alla Regione Campania, vediamo primarie, è il giorno del giudizio, questo è il titolo con cui apre Metropolis. A Napoli si riunisce il direttivo regionale del PD da stabilire data e regole per il voto di coalizione. De Luca attende buone nuove per la candidatura e Mauri lo sponsorizza, è l'unica vera alternativa. Andiamo avanti, in provincia ore decisive per la vicepresidenza a tenore dell'Udc, le deleghe e consiglieri solo dopo il nuovo statuto. La nuova provincia di Salerno muove i primi passi, a 15 giorni dall'elezione di Giuseppe Canfora alla guida di Palazzo Sant'Agostino, il già sindaco di Sarno si appresta a ufficializzare gli incarichi della sua squadra di governo. In attesa di tenere il primo consiglio provinciale, il rappresentante del PD dovrà assegnare la vicepresidenza e il ruolo di consigliere delegato. Il primo incarico andrà con ogni probabilità al sindaco di Siano, Sabatino Tenore, esponente dell'Udc, mentre il secondo c'è in pol Carmelo Stanziola. E intanto, di taglio basso, centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia, pioggia di veleni, a Liberti si scaglia contro Cirielli, il sindaco di Scafati replica il rappresentante di Fratelli d'Italia, caro Edmondo, la morte politica di Romano l'ha evoluta tu. E ancora il convegno, appello a Renzi, bregantini della CEI sulla crisi lavoro, guardare avanti senza più rabbia. Questa è la pagina politica, andiamo ora nelle pagine dedicate, le notizie provenienti dalla provincia di Salerno, si apre sempre con una notizia di politica. Primarie PD, trionfa a Servalli, è il Renziano di Cava dei Tireni, il candidato per le amministrative, grande affluenza in tutti i seggi, la dedica per i nostri giovani. Andiamo avanti, a Eboli teme di perdere il figlioletto, chiesto il divieto di espatrio, l'ex compagna porta il bambino in Romania, 47enne, fa ricorso al Ministero della Giustizia. Teme di non rivedere più suo figlio, chiede il divieto di espatrio per l'ex compagna e il piccolo. Una storia triste e complessa, quella di un 47enne di polla, trapiantato a Eboli da ormai 10 anni per motivi di lavoro. L'uomo originario del Vallo di Diano si era trasferito nel popoloso rione Pescara della Piana del Sele e lì aveva conosciuto una donna di nazionalità romena. Amore a prima vista è l'inizio di una relazione che sembrava volgere al meglio, tanto che appena due anni dopo la coppia ebbe anche un figlio, proprio quel bambino, però adesso è diventato l'oggetto di una contesta in punta di diritto tra il 47enne e la sua ex compagna. E a Ponte Cagnano, pastore, il forum è indispensabile. Per le notizie in breve di Taglio Basso, Battipaglia, ricercato dal 2009, è arrestato un latitante. A Capaccio, assistenza sanitaria, c'è la guardia medica, ad Agropoli vanno a pescare, saccheggiata l'auto. E a Vallo della Lucania, dieta mediterranea, Cilento, protagonista, il primo salone internazionale della dieta mediterranea, si terrà dal 21 al 23 novembre a Vallo della Lucania, nella culla dello stile di vita, che dal 2010 è stato incluso dall'UNESCO nei beni immateriali dell'umanità, riconoscimento, la paternità insieme all'Italia, Marocco, Grecia e Spagna, che rappresenteranno nel corso della Kermess le comunità emblematiche del tema portante della stessa, quindi proprio dieta mediterranea. E per l'economia, Banca Montepruno, nuova scommessa, si allarga il raggio di azione della Banca Montepruno, lunedì infatti si terrà l'inaugurazione della filiale di Potenza nel centralissimo corso Garibaldi. Apriamo a Potenza con tanto entusiasmo, dichiara il direttore generale Michele Albanese. Forti dei grandi risultati ottenuti nei primi sei mesi del 2014, ci accingiamo ad iniziare una nuova avventura per il nostro istituto di credito. La Banca Montepruno prosegue così le relazioni con la Basilicata. E lasciamo le pagine di Metropolis, andiamo ora invece sulle pagine di Cronache del Salernitano. Partiamo dalla prima pagina, Dio perdona, la natura no, questo è il titolo con cui apre questa mattina Cronache. L'arcivescovo cita Papa Francesco durante la messa per le vittime dell'alluvione, De Pasquale, polemico con i geologi, nostro piano di protezione civile tra i migliori. Nella sagrestia della chiesa dell'Annunziata allestita una mostra fotografica con le immagini storiche della sciagura del 1954. Cambiamo argomento, Cava, le primarie del PD, Servalli vince, sorpresa a Bastolla. Funziona l'accordo con il nuovo centrodestra, ottenuti 1.299 voti, sarà il candidato a sindaco. Galdi attende gli sviluppi. Andiamo avanti, sempre su questa prima pagina, Caos a Torrione, ex conviventi, vengono alle mani. A Salerno l'ex carcere femminile, vittima dell'incuria, discarica di rifiuti. Ancora occhio al porticciolo, Sabrina Campagna vince il primo premio, poi Mario Cricco. Infine, Annociare Inferiore e Torquato prova a ricucire con Grassi. Questa è la prima pagina di cronache del Salernitano. Andiamo nelle pagine interne, vediamo per le notizie provenienti dalla provincia di Salerno. A Eboli, sinistra in piazza, divisa centrodestra verso l'unità. Il centrosinistra non riesce a trovare un candidato unico. Scontro nell'ex PDL, previsto un tavolo di concertazione per trovare un'intesa. Di spalla Sala Consiglia, la richiesta di Rubino, Squillante ora deve dimettersi. Ormai siamo alla Fars, sicuramente la moratoria sanità provinciale ha bisogno di tutto tranne che di situazioni al limite del grottesco. Il settore complici, direttore generale dell'Asla Antonio Squillante, la regione Campania di Stefano Caldoro è nel caos più totale ed è difficile capire quale sarà la via d'uscita. Dure quindi le accuse di Gaetano Rubino, di DFC, di Democrazia Federalista Campana, che si scaglia contro una sanità che nel Salernitano fa acqua da tutte le parti. Lo ha detto nel corso di un incontro dei quadri di Democrazia Federalista Campana del Vallo di Diano, schieramento che fa capo all'ex assessore regionale all'agricoltura Antonio Lubritto. E andiamo di taglio alto. Giungano, interscambi culturali fino al 3 novembre tra giovani del posto e studenti provenienti dalla Romania e Macedonia. Continuiamo sempre su questa pagina dedicata alle notizie dalla provincia. Auto in sosta a Battipaglia, dinanzi alla fermata del bus, multati i conducenti, gli agenti della Polizia Municipale di Battipaglia non sanzionano le macchine ma i pullman del CSTP. E a Rocca d'Aspide, Ennio Rego di Rocca d'Aspide, protagonista al Festival Internazionale di Poesia di Vercelli. Lasciamo anche questa pagina, andiamo ora sulle pagine sportive, vediamo i risultati per quanto riguarda le squadre valdianesi in eccellenza e in promozione. Vediamo eccellenza, Valdiano rimonta super, il Campagna si illude con Montaperto, poi c'è dall'undici di Tudisco, di Giacomo e Coronato, firmano la preziosa vittoria della formazione ospite. Temorea fallisce un calcio di rigore, ora Viscido rischia la panchina in giornata summit societario. La gara a Campagna-Valdiano quindi termina 1-2. Andiamo di taglio basso, troviamo invece il risultato del Sassano, il Sassano strappa un pari in 10, Miglino evita il K.O. alla Calpazio. Vediamo le gare. In eccellenza, Girone B, Campagna-Valdiano 1-2, Gragnano-Santagnello 1-1, Massalubrense-Faiano 2-1, Scafatese-Marigliano 1-0, Ponte Cagnano-Nocerina 2-2, Vico-Santo-Maso 3-1, Sant'Antonio-Eclanese 1-0, Ariano-Palmese 0-0. Per la classifica conduce il Sant'Agnello con 17, segue Nocerina-Gragnano-Scafatese a 15 punti, Rialvico 13, Coraggio 12, Mariglianese-Santo-Maso e Faiano insieme a Sant'Antonio-Abate e Valdiano a 10 punti. Palmese 9, Campagna-Ponte Cagnano 7, Vissariano 6, Massalubrense 6, chiude la classifica eclanese con soli due punti. Per quanto riguarda invece la classifica di promozione del Girone D che vede impegnato il Sassano-Calcio, Calpazio-Sassano 1-1, Ebolitana-Real Stella 4-0, Giffonese-Real Bellizzi 1-0, Picciola-Olympic 3-0, Real Agropoli-Santa Maria 4-1, Aversana-Poseidono 1-0, Temeraria-Rocchese 0-1, Volcea-Inter Casali 2-0. La classifica vede al primo posto la Giffonese con 17 punti, seguita da Ebolitana a 16, Temeraria a 14, Rocchese e Real Stella a 13, Calpazio e Picciola a 12, Sassano 11, Volcea 10, Real Agropoli e Aversana a 9, Cilento 8, Poseidono Inter Casali 7, chiudono la classifica a 0 punti l'Olympic e il Real Bellizzi. E sulle notizie di sport termina la nostra segna stampa, vi ricordo l'appuntamento alle 13.45 con il Tg di Uno News. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata.